Hai 10 secondi per dire cosa c'era la 51esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Un'intera casa allestita con opere artigianali, gioielli disegnati da D'Annunzio e realizzati dai grandi Mario Buccellati, ceramica, pietra, legno, ferro e capi in modo artigianali, artigianato calabano contro il malocchio, concorsi di orificeria, giardino dei tessuti, vetrofagnia di atri... Dai, dammi qualche altro secondo! A Guardia Grelle, dal 1 al 22 agosto, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 22. Ingresso gratuito! Grazie a tutti!